buongiorno sono raffaele questo è tecnica antica bene quest'oggi il titolo del video è la verità nascosta la storia di marcello del monaco e antonio giuvarra ciao a tutti benvenuti al canale oggi vi racconterò un'istoria affascinante che ci è stata inviata da un amico di marcello del monaco un noto maestro di canto come sapete e questa storia che ci arriva attraverso una email di una persona che desidero mantenere nell'anonimato e getta luce su un episodio del passato che ci parla di onestà rivalità diciamo la complessità delle relazioni umane nel mondo della musica voi sapete che questo signore antonio giuvarra ha un odio a tutto quello che che ha da fare con melocchi del monaco eccetera eccetera e perciò che una persona cara mi ha contattato e mi ha inviato questa informazione e io la voglio diffondere scusatemi per il mio italiano sapete che io sono spagnolo ma cercherò il meglio possibile quindi la mail inizia con un saluto caloroso e una preoccupazione per la situazione attuale e gli racconta di come sua figlia sia rimasta colpita da alcuni discorsi pieni di rancore riguardo a marcello del monaco melocchi mario del monaco eccetera provenienti da un insegnante di canto di nome antonio giuvarra ma perché tanto astivo questa persona ci riporta indietro nel tempo del tempo tra 1972 e il 1982 quando frequentava spesso la casa di marcello del monaco situata a breve distanza dalla 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 sua lui descrive un ambiente vibrante dove si respirava cultura e trasformazioni vocali marcello del monaco era un maestro riconosciuto e molti aspiranti cantanti si presentavano da lui nella speranza di ricevere un consiglio magari una lezione diciamo che ero un una persona molto amata è una persona molto onesta tra questi aspiranti aspiranti scusatemi un giovane antonio giuvarra descritto come alto è sicuro di sé ci cercò di impressionare il maestro tuttavia apparentemente il risultato non fu quello sperato il maestro marcello del monaco noto per la sua schiettezza non si tirò indietro gli disse chiaramente che la sua voce non aveva il potenziale necessario e che sarebbe stato un errore perdere tempo a studiare canto questo colpo duro per giuvarra lo portò a lasciare lo studio senza nemmeno salutare posso un po immaginare questa scena capito è un po come una tragedia di verdi beh l'autore da questa email riflette su come questo rifiuto possa aver seminato il seme della vendetta in giuvarra da allora se quando secondo scusatemi quanto riporta l'autore chi scrive l'insegnante avrebbe continuato a lanciare attacchi contro marcello contro mario del monaco contro me contro melocchi stesso rimpiendo i suoi discorsi di calunnie e falsità un comportamento che secondo questa persona non fa altro che rivelare la frustrazione di chi non ha raggiunto il successo desiderato bene conclusione questa storia ci invita a riflettere su come il rifiuto la competizione possano influenzare le relazioni marcello del monaco un maestro amato e rispettato affrontato con onestà le sfide del suo lavoro mentre giuvarra dall'altra parte dall'altra parte sembra aver lasciato che il rancore prendesse il sopravvento diciamo è perciò che questo signore fa tutto il possibile per attaccare e difamare il nome dal maestro melocchi i fratelli del monaco e tutti gli insegnanti che come me seguono il metodo dall'affondo il metodo dal maestro melocchi che come ho detto ho detto in tanti vidi non è un una invenzione da da melocchi è un diciamo melocchi ha presso tutto quello che era disponibile all'epoca lamperti garzia eccetera giraldone e ha fatto un metodo e perciò che quando qualcuno fa uno scritto un video una pubblicazione giuvarra perde la testa e attacca quello che mi è successo a me e a tutti da tutti quanti quindi cosa pensate di di questo avete vissuto una situazione simile fatecelo sapere nei nei commenti qui sotto se sapete qualche cosa ebbene se vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui storie come queste e grazie per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video grazie grazie mille buongiorno a tutti